Buonasera a tutti, benvenuti per la presentazione di Simona Bertocchi per la rassegna Iplac che questa sera si svolge al Mangia Parole, al caffè letterario Mangia Parole. Noi dell'Iplac siamo tutti qui riuniti, c'è tutto uno staff Iplac pronto per presentare la nostra consigliera di massa Simona Bertocchi. Si tratta della presentazione di un romanzo storico, del suo ultimo lavoro, un romanzo storico di grande interesse, ha messo molto tempo per scriverlo la nostra Simona, studi approfonditi, un anno e più di lavoro e d'altronde quando c'è di mezzo la storia non potrebbe essere altrimenti e il risultato sarà senz'altro eccellente, lo potrete poi constatare di viso. Io inizierei col presentare tutta la squadra partendo da coloro che faranno gli attori e parto dall'attrice per Cavalleria, quindi parto da Loredana D'Alfonso, Loredana D'Alfonso è giornalista pubblicista, ha scritto una trilogia gialla, tre libri gialli, Fiamme nella memoria, l'eredità dei Lexter e l'ultimo nato, il neonato delle associazioni Pegasus, L'inganno della luna che è uscito da pochissimo e che sicuramente avrà grande successo. Ha scritto anche una serie di racconti gialli, una raccolta di racconti gialli, racconti del meridiano, ma non va detto che scrive solo in giallo perché anche si sa trasformare in una poetessa, astruggente e appassionata in racconti che le hanno valso premi in tutte le partecipazioni ai concorsi letterari. Inoltre è giurata in premi nazionali e internazionali, è una recensisce, prefatrice eccezionale, presentatrice di libri e come vedete anche attrice perché si avvale di una voce sua dente e del fatto di aver frequentato, anche se per un breve periodo, la scuola teatrale. Quindi abbiamo un pezzo da 90 dell'IPLAC, Loredana D'Alfonso. Un applauso per Loredana D'Alfonso. Cosa dire di Massimo Chiacchiararelli? Massimo Chiacchiararelli è nato ad Olevano Romano, vive a Roma e ha fatto di tutto nella vita. È stato giornalista radiofonico, è stato organizzatore di premi letterari, tuttora è giurato in premi nazionali e internazionali importanti, ha scritto varie sillogi di poesie, si è cimentato in prosa, di lui ricordiamo Amore Amico, un libro edito dalla Fermenti editrice di grande valore che abbiamo presentato in più occasioni e in più da 30 anni Massimo calca le tavole del palcoscenico e si è cimentato anche come aiuto regista con varie compagnie reatrali e adesso sta andando in scena ripetutamente con la compagnia teatrale Maledetti Poeti, diretta da Pio Ciuffarella e l'opera scritta da Luca Giordano in cui interpreta un meraviglioso Dino Campana. Un grande applauso per il nostro Massimo Chiacchiararelli. La relatrice factotum, Manuela Minelli. Manuela Minelli è un altro pezzo da 90 dell'IPLAC, ci aiuta, conduce anche serate nostre, fa di tutto, però diciamo di lei perché ha un curriculum importante, è scrittrice e giornalista, ha scritto per i quotidiani e i periodici più importanti, ha scritto per la stampa, il messaggero, la Repubblica, Elite, altri giornali ed è arrivata a produrre quasi 2000, 2000 tra articoli, inchieste, interviste e reportage. In più organizza Festival della letteratura e segnaliamo Donna con la penna che è arrivata alla quarta edizione che è una rassegna al femminile itinerante che si è mossa per tutta l'Italia e appunto adesso arriva al quarto anno, in più dei swing di parole. In più ha scritto e pubblicato quattro libri che hanno vinto a concorsi letterari, lusinghieri, riconoscimenti, anche primi premi, ha scritto 12 commedie musicali, ha avuto un ufficio stampa internazionale, un ufficio stampa, rendetevi conto il personaggio che stiamo presentando e poi ha presentato delle trasmissioni culturali per tv web. Diciamo che dal suo ultimo libro, Femmine che mai vorreste per amiche, che Massimo conosce bene perché è stato un rugantino indimenticabile, invece dal racconto gala è uscito uno spettacolo teatrale sull'anoressia che si intitola La tentazione di essere vento e che è stato recentemente messo in scena a Monza e a Milano. Attualmente Manuela Minelli, oltre che di noi, si occupa di una tv web, di un'agenzia stampa e di un quotidiano online. Un grandissimo applauso per Manuela Minelli. E passiamo alla nostra ospite, alla carissima, e non è nuova a Roma, ci è venuta a trovare tante volte, ogni volta è una festa, Simona Bertocchi. Simona Bertocchi è nata a Torino ma è stata poi adottata da molti anni dalla Toscana, infatti vive a Montignoso tra la Versilia e Massa Carrara. Simona di mestiere è nel settore del turismo come lavoro, però il suo vero mestiere è scrivere, lei lo definisce un bisogno primario e tale in effetti nella sua vita e nella vita di molti altri. In più è appassionata di tante cose e mi piace ricordarle tutte. Lei ama i film in bianco e nero, ama la poesia inglese, ama sia entusiasma vedendo, viaggiando, ecco i viaggi, poi scoprendo antiche ricette, anche se ama di più divorare i libri, che non poi le ricette in effetti, no? E poi balla il tango ed è un elemento fondamentale della sua vita, il tango. Simona è segretaria di un centro importante antiviolenza che si trova a Montignoso e le sabine di Montignoso, che fa rete con altri centri contro la violenza sulle donne che si trovano in Toscana. In più è associata al nostro circolo IPLAC ed è la consigliera per la Toscana di questo circolo che IPLAC è un acronimo di Insieme per la Cultura, è distribuito su tutta la penisola, per cui lei lavora presentando libri, recensendoli, insomma unisce a tutte le altre anche l'attività per la nostra associazione. In più è anche a volte aiuta case editrici, si prodiga per case editrici e quindi promuove la cultura in tutte le sue forme. Ha scritto in prosa e in poesia e spesso i suoi libri sono arrivati alle seconde edizioni. Ha vinto molti premi, anche molti primi premi ed è stata presentata nella penisola dal nord al sud, quindi ha avuto anche molti riscontri dai media e dalla critica, quindi più di così non si può chiedere. Ama molto le contaminazioni e questa è una cosa interessante, lei ama unire il suo talento a quello per esempio della scultrice Lucilla Gattini, della pittrice Maura Iassoni, della fotografa Gisella Molino, dei due musicisti, Massimo Montaldo, Massimo Montaldo e Alessandro Raspolini e addirittura unisce il suo talento con quello dello psicoterapeuta Stefano Mazzacurati, quindi contaminazioni di tutti i tipi. Parliamo delle sue opere, ha scritto La fuga, il primo romanzo breve, poi ha scritto I colori di venere che avevamo la gioia di presentare a Roma e questo mi fa pensare da quanti anni facciamo queste collaborazioni. Nel 2008 una raccolta di racconti al femminile della giovane Oldenja, vero? Poi nel 2009 Anima Nuda, nel 2011 il suo primo romanzo che ho qui, Lola Suarez, molto importante perché è un romanzo bellissimo, perché le ha valso molti premi letterari e poi nel 2013 è avvenuta la ristampa di Lola Suarez, proprio perché ha riscosso grande successo. Sempre nel 2013 ha pubblicato anche Viaggio Scalza, che era una raccolta di prosa e poesia sul viaggio, proprio a dimostrare la sua passione per il viaggio. Nel 2015 esce Nel nome del figlio, che è uscito nel maggio del 2015, pubblicato dai tipi della Giovane Olden Edizioni e nonostante sia fresco di stampa ha già stato finalista in premi importanti, quali il premio internazionale Massa Città Fiabesca e il premio Michelangelo. In più è già pronta ad andare presso le scolaresche, a girare nelle scolaresche, quindi è un libro che sarà oggetto di studio da parte degli studenti e in più è corteggiata dalle compagnie teatrali. Quindi ditemi tu cosa si può desiderare di più da un libro appena uscito. Il sito di Simona è www.simonabertocchi.it, il suo blog è simonabertocchi.spotblog.com. Un forte applauso per Simona Bertocchi. Iniziamo con lei, iniziamo con lei che ci fa entrare nel magico mondo di Ricciarda, la protagonista di Nome del figlio. Ogni giorno scrivo, attingendo alla mia memoria e alle mie conoscenze, per narrare la mia storia alla corte dei Cibo Malaspina. Gli occhi vedono sempre meno, rileggo a fatica gli epistolari di famiglia, quelli amorosi, le copie degli atti sottratti, le relazioni dei funzionari e militari di corte. Ho una vita da raccontare, ormai confondo il presente con il passato. Vedo figure antiche, sento la voce dei miei cari, rivivo tutto sulla mia pelle, piango, rido nel mio viaggio della memoria. Immagini, voci, volti, odori, sensazioni si agitano nella testa. Le grida e le risate di Ricciarda, le sue lettere, i papi, i re, l'anello del cardinale, i banchetti avvelenati, l'inchino dei mercanti, le poesie nei salotti, le teste mozzate, gli occhi di mia figlia, il bacio con Giulio, le mani di Serperi su di lei, il ghigno di Elena, i sorrisi di Caterina, l'abbraccio di Eleonora, i patiboli, le campane a morte e quelle che annunciavano una nuova vita. Voglio che il piccolo Giulio conosca la storia dei suoi genitori e sappia da quale destino l'ho salvato. Voglio che le vicende di Ricciarda, del cardinale e di Lorenzo siano note a tutti e che tutti conoscano cosa si nascondeva dietro quella figura di autorevoli reggenti. Ecco, ora ho scritto tutto. Ho inserito anche le poesie tra resoconti di guerra e di morte. Dicevo che ho avuto la grande fortuna di assistere alla prima uscita di questo libro nel nome del figlio di Simona Bertocchi, esattamente a casa di Ricciarda Malaspina, proprio a casa sua, nel castello Malaspina a massa, durante una manifestazione bellissima che ricorderò per sempre perché c'erano dei balli cinquecenteschi, quindi con le musiche appunto del Rinascimentale, con queste coppie abbigliate, con questi meravigliosi vestiti di velluti, perle, gioielli dell'epoca. Insomma è stata una cosa veramente indimenticabile. Io adesso vi leggerò quello che ho scritto subito dopo aver letto il libro. Questo nel nome del figlio appunto di Simona Bertocchi è un romanzo storico, ma sebbene narri le vicende delle famiglie Malaspina-Cibo, nonché le guerre, le battaglie, i matrimoni politici, le lotte intestine, le esecuzioni e quant'altro per accaparrarsi feudi, onori e titoli nobiliari nei primi cinquant'anni del 1500, tutti elementi che potrebbero dar vita ad un testo accademico, adatto magari ad uno storico piuttosto che a un lettore comune. Invece nel nome del figlio si legge con entusiasmo e passione, fremendo, soffrendo e gioendo insieme in contemporanea con i numerosi personaggi che danno vita e che affollano tutto il romanzo. Questo perché l'autrice, appunto Simona, ha saputo scrivere rifacendosi sicuramente ai documenti storici, perché ha passato in rassegna un'infinità di documentazioni che l'hanno vista per mesi e mesi assidua frequentatrice degli archivi di Stato, spulciando lettere, testamenti, archivi storici, ma ha avuto una sensibilità tutta femminile nel narrare sostanzialmente la storia di due donne che sono Ricciarda Malaspina e la sua dama di compagnia Beatrice Pardi ed è stata abilissima nel delinearne caratteri e personalità. La prima, Ricciarda, fredda, calcolatrice, avida di potere e denaro, amante del lusso e anche molto abile a manovrare pontefici, regnanti, nobili e uomini potenti. Crudella e feudataria che non esita neanche a sacrificare l'amore per i figli, pur avuti figli, peraltro avuti da consorti e anche probabilmente da un amante, cognato e cardinale, pur di continuare a tessere intrighi, a muovere i figli della politica e dell'aristocrazia per la propria smisurata sete di potere. L'altra, Beatrice Pardi, la sua dama di compagnia, donna di umili natali ma di buona cultura e sapienza, una donna che dopo una serie di rocambolesche vicissitudini si ritroverà occhi negli occhi con la Marchesa Ricciarda Malaspina, sua ex padrona, che l'aveva poi fatta inseguire e condannare a morte e aveva causato anche la morte dell'amata figlia Angelica. E questo, a mio avviso, è il momento più emozionante di tutto il romanzo. Queste due donne che ormai anziane e a pochi passi dalla fine delle rispettive vite si confrontano e, sebbene diversissime, si ritrovano in qualche modo l'una negli occhi dell'altra. La leggeremo, che bellissima. Ed è attraverso una sorta di diario, questo è l'escamotace che ha trovato Simona, una sorta di diario che Beatrice Pardi, appunto la dama di compagnia di donna Ricciarda, tiene in segreto, che viene narrata in prima persona tutta la storia con un escamotace che rende a tratti intimo il romanzo e regala al lettore un po' l'impressione di stare a guardare dal buco della serratura. Che vuole essere. Ma anche, insomma, ci fa vedere tutti gli avvenimenti come su uno schermo. E quindi ti ringrazio, me lo sono letto tutta ad un fiato, ho detto ma sei un romanzo storico, sarà un po'. Invece è una bellissima storia d'amore dove, peraltro, poi si sente il lavoro di ricerca che è stato fatto. Eh beh, due anni, di aprile. Accidenti. Io ti voglio fare subito una domanda. Voglio sapere come ti è venuto in mente di scrivere una storia su una donna del rinascimento sconosciuta e più? Dove l'hai pescata sta Ricciarda? La città di Massa è celebre per il suo grande reggente che è stato Alberico, il figlio di Ricciarda. E da Alberico in poi i massesi conoscono bene la storia di Massa. Tenendo conto che era un piccolo stato, era uno stato cuscinetto, che era molto ambito per i suoi confini, per il suo sbocco sul mare. E quindi, come vedete, la storia di Ricciarda non si ferma nel suo regno, ma Ricciarda vivrà a Roma, Ricciarda vivrà dai Medici a Firenze, Ricciarda seguirà corrispondenze e legami con tantissimi regnanti, proprio perché tesserà le fila anche per una politica estera molto importante. Quindi è un personaggio abbastanza conosciuto che però ha scalpitato tanto. La domanda che mi sono fatta è perché di Alberico si conosceva assolutamente tutto, mentre della madre si conosceva così poco? Era come se nella storia di Massa mancasse una generazione, la generazione di Ricciarda. Si sapeva addirittura più del padre di Ricciarda. Perché Ricciarda era poco amata? Perché Ricciarda era un personaggio forte, inquietante, arrivista, cattivo volendo, anche perché poi quando leggerete il libro capirete anche di che cosa è stato capace, però siamo nel 1500 e Ricciarda Malaspina riesce a governare in modo indiscusso sia il feudo ma la spina che è a tessere una politica estera incredibile, in combutta con l'imperatore. Aveva sposato il nipote di due papi, un avo di Lorenzo e magnifico, ed è riuscita a lui a togliere anche il pretesto di governare, perché a un certo punto gli ha tolto anche la comproprietà, ed è rimasta la signora indiscussa. Come? Tramando, cambiando testamenti e poi vedremo qual era la causa principale che ha fatto sì che nascesse questo odio, questa discordia tra madre e figlio. E nel nome del figlio Ricciarda e non solo, tutta la sua famiglia, ha portato avanti delle scelte fortissime che hanno scombussolato il destino non solo dei Malaspina ma dei Cibo Malaspina. Con Ricciarda finisce la dinastia Malaspina, inizia la dinastia Cibo Malaspina perché ha sposato Lorenzo Cibo, ha sempre voluto lei però che si mettesse prima il nome Malaspina, infatti tu prima hai detto Giulio Malaspina Cibo, proprio perché ci tenesse. Quindi un personaggio scomodo, poco conosciuto, il fatto che se ne parlasse poco e che in quegli anni fosse una donna così di evoluzionaria mi ha stuzzicato l'idea di scrivere di lei in modo romanzato. Mi hai magnificamente colmato questo vuoto. Grazie. Ascoltiamo la lettura di Loredana D'Alfonso, lettura nella quale viene ben delineata la figura di Ricciarda Malaspina. Mi sono sempre ripromessa di vivere abbastanza da essere presente ai funerali di Ricciarda e così è stato. Era sopravvissuta un figlio, al marito, al cognato e amante con i quali aveva portato avanti una vita di guerre, alleanze, vendette, sotterfuggi, tradimenti, addii e ritorni. Del suo popolo in pochi si inchinarono davanti alla sua bara. Le furono invece accanto nell'ultimo viaggio il figlio prediletto Alberico, visibilmente commosso, la figlia Eleonora, con un velo fittemente ralavorato che impediva di vedere lo sguardo vitrio e inespressivo, la figlia Elena, combattuta tra l'odio e l'amore per quella donna che le aveva manovrato la vita. Seguivano la solita parata di nobili, cardinali, principi e signori. Se ne stavano tutti in silenzio intorno al feretro che conteneva il piccolo corpo di quella grande donna che aveva stretto alleanze e guidato guerre a distanza con i nomi più potenti della storia italiana del Rinascimento e che, pur di salvare il suo stato, aveva venduto l'anima al diavolo. Ascoltiamo subito dopo invece la lettura di Massimo Chiacchiararelli che narra del primo soggiorno di Ricciarda Malaspina a Roma e dell'incontro con il cardinale Cibo, suo cognato, che poi diverrà il suo amante. In quegli anni Roma era ancora sotto il pontefice Leone X, il quale nominò cardinale il cugino Giuliano, futuro papa Clemente VII, e il nipote Innocenzo Cibo, fratello di Lorenzo. Innocenzo non conduceva vita meno mondana della cognata Ricciarda. Tutti sapevano quanta massa le battute di caccia, il gioco d'azzardo, i ricevimenti, le abbuffate ai banchetti, le rappresentazioni teatrali e le belle donne. Aveva amicizie importanti, una forte influenza sul papa e porte che si aprivano a ogni suo passaggio. Per tutti questi motivi, Ricciarda pensò bene di rendere più intima la sua amicizia con il cognato, tanto che il loro legame addò ben oltre la parentela. L'avevo davanti la scultura delle sculture, l'anima scolpita, la pietà, la grazia che si muovevano tra le pieghe del marmo, il silenzio che urlava nello sguardo della Maria Vergine. L'avevo davanti la pietà del maestro Michelangelo. Troppe eccitazioni in pochi giorni avevo vissuto. Inchinarmi davanti al pontefice e baciargli l'anello non mi aveva dato l'emozione che pensavo. Tante volte avevo immaginato di trovarmi davanti ai papi, ai re, e non avevo previsto che la realtà sarebbe stata ben più deludente della fantasia. Ma quel blocco di marmo parlante, quel candore lucente di forme scolpite e riempite di grazia, quel capolavoro, fece di quel momento uno dei più belli della mia vita. Ricciarda, intenta a parlare col pontefice, confinta sotto missione e sguardo timorato di Dio, mi chiamò più volte per riprendere la strada del ritorno. Non capiva perché non riuscivo a muovermi da quella madonna con il figlio tra le braccia. Non capiva perché avevo le lacrime negli occhi. Quelle immagini di pietà e amore assoluto, di terra che accoglie, cresce e soffre quando il suo fiore viene sradicato. erano immagini lontane dal suo essere. Chiesi al cocchiere di farmi scendere nei pressi di Trastevere. Volevo andare a piedi alla bottega di stoffe per ordinare drappi e cappelli per la mia signora. L'uomo mi guardò contrariato. Non si addiceva una donna a girarsi per quel quartiere. Ma io non volevo vedere Roma da una finestra. Aspettatemi qui, toglierò tra poco. Non mi succederà niente. L'uomo alzò le spalle in segno di rassegnazione e scese per spazzolare il cavallo. Il Tevere lucicava delle luci del tramonto. Le usciva tutto il sole che aveva inghiottito durante il giorno in un gioco di bagliori e riflessi. Un vento caldo di primavera increscava le acque e i gabbiani sorvolavano la sua corsa. Sulle rive molti artisti ritraevano una Roma ferita dalla peste, dalle guerre e dalla carestia, ma dignitosa e fiera a mostrare trionfante le sue piazze, i monumenti e la meraviglia dei palazzi rinascimentali. Non avrei mai immaginato che presto l'avrebbero spregiata, deturpata, l'avrebbero fatta crollare dal trono offrendo la sua maestà, la sua inviolabilità, la bellezza infinita della sua arte. I tintori avevano messo ad asciugare metri e metri di stoffa color malva e magenta. Pozze di tinta stagnavano sull'acqua, i drappi al vento sembravano vere colorate al tramonto. Nelle umide taverne uomini vestiti di stracci bevevano vino e mangiavano carne secca. Le loro urla e le grasse risate che uscivano da guance barbute tonavano sulla strada. Proseguì non curante. Qualcuno di loro mi invitò a entrare, faceva apprezzamenti pesanti, sgranava gli occhi eccitati. Affrettai il passo, diretta nella bottega del sarto e a testa alta. L'interno della bottega era appena illuminato, rotoli di stoffa erano accadastati sugli scaffali mangiati dalle tarme, figlie di cappelli e mantelle, decine e decine di scarpe, drappi, fronzoli, fiocchi. Era un bellissimo caos. Vedendo una donna sola, l'uomo dal naso grosso e le sopracciglia unite stava per proporre merce scadente a prezzi esagerati. Mi si subito inchiaro che ero la dama di compagnia della famiglia Cibo e venivo da parte del cardinale Innocenzo, che come sempre era pronta a pagare per ogni acquisto e capriccio di Ricciarda. La scena cambiò drasticamente. Mi srotolarono davanti metri e metri di seta delle Indie, raso cinese, pisto di Provenza. Feci l'acquisto e pretesti che fosse consegnato quanto prima al palazzo. Pagai in anticipo e me li andai. Dopo pochi metri mi accorsi di non aver ordinato il cappello stile francese per la Marchesa e tornai dal nasone, ma sentendolo parlare con sua moglie mi fermai sulla porta. Hai capito di che si tratta? Della Marchesa Malaspina. Ormai si è sistemata a palazzo, ha spostato il nipote di due papi, ha portato tutta la sua corta a Roma, un esercito di persone che neppure la reggita di Francia sono impazziti per sistemare tutta quella gente negli alloggi di famiglia. E so che il cardinale Cipo soddisfa ogni suo desiderio, si insomma si mormora che sia la sua amante, disse la voce femminile. E non solo il cardinale. Entrai sperando di metterli in imbarazzo, ma i due lo smisero di farsi sorrisi e scambiarsi occhiale d'intesa. E quindi oggi è come se insieme a te la Marchesa Ricciarda Malaspina fosse tornata a Roma. Roma è una città eterna, ma anche la capitale del cinema. Quindi io ti chiedo, allora, ipotizziamo che nel nome del figlio volessero farne un film. E tu potessi partecipare in qualche modo alla scelta del cast con attori italiani e stranieri. Quindi chi sceglieresti come Ricciarda, come Beatrice, e anche come Giulio e come Angelica? E poi magari vogliamo anche dare un volto agli altri personaggi. È difficile. A parte che proprio questa domanda... Non ti aspettavi. È difficile. Ho abbastanza chiaro idea di Beatrice, invece. Beatrice mi piacerebbe l'amorante come personaggio. Per come è Beatrice. Perché è ironica, è colta, però è anche ribelle. Vuole essere una donna libera, fa tutto per la figlia. Il suo carattere, nonostante abbia davanti una marchesa, non viene scalfito. Per Ricciarda mi è più difficile. Io sinceramente di personaggi... Non lo so, datemi una mano voi. Non era così bella però. Ricciarda non era bella. È ovvio che alcuni storici l'hanno distrutta. Mi taglio la panca e lo faccio io, dai. La voce l'hai fatta. No, dicevo più che altro che il discorso di prima della bellezza di Ricciarda. Ricciarda, intanto non c'è una foto di Ricciarda. C'è un'immagine di Ricciarda di un monumento funebre che poi è finita nella toma della figlia, e Leonora, perché Leonora ha... Ovviamente noi non li abbiamo citati tutti, diventa poi corale questo libro. Leonora ha un ruolo molto importante nel libro, Leonora Cibo. È la parte più fragile che però è riuscita anche a un certo punto a tirare fuori dalla sua fragilità una forza incredibile e aiutare Beatrice e mettersi dalla parte di Beatrice, pur essendo figlia di Ricciarda. Quindi Ricciarda non ha dei dipinti, dei ritratti o comunque delle immagini che la rappresentano. Un po' perché ci sono stati numerosi incendi, devastazioni, un po' perché gli ultimi dei Malaspina, subito dopo Alberico, hanno avuto una situazione economica terribile, per cui hanno venduto l'impossibile di tutto quello che erano i loro tesori di corte. E poi perché era una donna che non badava tanto, non amava, non era un'amante dell'arte, era un'amante della bella politica estera, di arricchirsi, di fare una vita mondana sfrenata, però non aveva un ritratto. Nella sua immagine che abbiamo si capisce che bella non era, però non era neanche brutta come un diavolo, come la giudicano molti i suoi nemici, aveva molti più nemici che amici, intendiamoci, di conseguenza era facile poi distruggerla, però era ammaliante, ammaliava tantissimo, ha avuto tantissimi amanti, da Alessandro de' Medici fino al de'Aguilar, al de'Aguilar che era il console spagnolo ha avuto un figlio che si chiamava Scipione, illegittimo, però insomma tutti sapevano che era nel suo ultimo soggiorno romano, quello del 1947, ebbe un figlio da Scipione. Suo amante per eccellenza fu il cognato, quindi il cardinale Cibo, e si dice, o ci sono quasi le prove certe, che l'ultimo figlio è il suo prediletto, e quindi Alberico, il principe di massa, sia proprio figlio del cognato, tant'è che per non creare subito uno scandalo familiare, nelle sue memorie Alberico ha mentito sulla data di nascita, per fare in modo che si pensasse che fosse figlio di Lorenzo invece. Quindi era un personaggio che, bella non era, però era una Glenn Close, mi viene in mente, ecco, avrei pensato a lei, perché non era per niente bella, però era astuta, intelligentissima, io quando leggevo le sue lettere dall'archivio di Stato, erano incredibili, in base alle persone a cui si rivolgeva, principi e re, si firmava sotto, serva vostra, ed era una ruffiana incredibile, ci sapeva fare, però aveva un istinto terribile che poi l'ha portato alla rovina, quindi non riusciva a governare bene il proprio istinto. E Beatrice? No Beatrice, Angelica, dai capelli rossi fluenti. Angelica, dai capelli rossi fluenti, non saprei, Angelica è un personaggio nel libro che è un po' l'anima di questo libro. Ricciarda è la protagonista, Giulio nel nome del figlio, quindi è per Giulio che viene creata questa trama, perché farà delle scelte terribili, soprattutto una congiura contro il suo feudo stesso, e Angelica è un po' la coscienza dei cibo, è la persona che cercherà di salvare il salvabile, ma non ci riuscirà. Va bene, allora ci pensi un altro po' il regista, ci penso assolutamente, lo tengo buono, va bene. Assolutamente. Passiamo allora, dopo tutte queste altre delucidazioni, nella seconda parte del racconto di questo libro, che ci presenta nuovi personaggi e ci illumina sul personaggio di Ricciarda e di Beatrice. Elena Cibo era ossessionata da mia figlia. Potevo interpretare esattamente la malvagità dei suoi pensieri. Nella sua mente quella sguattera di mia figlia era riuscita ad avere un'istruzione, a sposare un procuratore, a ottenere l'amore del Marchese, e di certo avrebbe fatto di tutto pur di rovinare Ricciarda e piantarsi al castello accanto a Giulio. non poteva passare la liscia, non poteva la gente ignorare quella tresca vergognosa, non potevano tutti venerare la dolce angelica senza sapere che si infilava nel letto del Marchese, mentre questi stringeva patti con i Doria e i Medici. Tutto questo era opera della figlia della dama di compagnia di Ricciarda, bell'esempio per quella donna che da anni era ai servigi della Marchesa e avrebbe dovuto mostrare altri valori. Questi terribili pensieri devono essere passati per la testa della mocciosa, sì da spingerla a vendicarsi e tirare fuori tutto il veleno che aveva in circolo. Quella mattina, mentre pettinavo i lunghi capelli di Ricciarda, che mi raccontava le novità di casa d'este, entrò Elena, strusciando la lunga veste di velluto amaranto, a passi incerti ed espressione severa. Dal suo volto rigido e dai gesti decisi, capì che aveva qualcosa di grave da comunicare. Senza proferire parola, mise sul tavolo delle lettere. Sbiancai. Fu come cadere nel vuoto. Il cuore prese a battermi come un tamburo e le immagini si offuscarono. Non è vero che erano solo mie fantasie, tutti quei dubbi su Elena. Sapeva tutto. E avevamo fatto male a non prenderla sul serio. Allora, mi dicevi che questa Elena, questa terribile figlia della Marchesa Ricciarda, ma la spina ti ha creato dei problemi, nel senso che hai scoperto dei gossip, che poi ti hanno costretto a rivedere un po' tutto. Spiegaci un po' meglio. Avevo iniziato già da tempo la stesura del libro, poi cercavo documentazioni storiche all'interno dell'archivio di Stato e scopro una lettera. Io sapevo dell'esistenza di Elena, sapevo che Ricciarda aveva avuto anche altri figli, tra cui i legittimi, invece questa in questo caso le ha poi legittimati, tra cui Elena e una certa Ricciarda, che ha il nome della madre. Ma niente si sapeva di questi due personaggi, per cui non ci ho dato peso, non sapevo neanche se citarli all'interno del libro, perché comunque avevamo capito che era di indole facile Ricciarda, era le 50 sfumature del Rinascimento, per intenderci un pochino. Scopro una lettera nell'archivio che Ricciarda scrive all'amante cardinale e gli dice, ma come tutte le volte che vieni per Natale pensi solo ai regali di Ricciarda mentre trascuri Elena. Mentre lo sai che a Elena io ci tengo tanto. E poi andando avanti scopro, portando avanti la documentazione, che avevano lasciato un buon lascito alla morte sia del cardinale che di Ricciarda, soprattutto a Elena. Quindi Elena a questo punto mi diventa un personaggio del libro. Che ne faccio? Divento un personaggio importante del libro, perché da questa lettura in poi parte la seconda parte del romanzo e quindi la ribellione di Beatrice e tutto quanto il resto, perché Elena aveva scoperto la liaison di Giulio con Angelica e una volta comunicato per vendicarsi alla Marchesa era successo di tutto. Quindi da questo momento in poi il libro prende poi un'altra piega. mantenendo sempre la parte storica, perché poi comunque c'è la congiura dei Fieschi, perché c'è comunque la congiura di Giulio, tutta la parte storica, che è quella anche più difficile da portare avanti, viene proprio nella seconda parte. La seconda parte è stata la più difficile da scrivere, proprio perché c'era da romanzare e quindi questi personaggi, alcuni di fantasia, e creare comunque una storia anche di narrativa, e invece incalzavano le situazioni politiche e i fatti che succedevano in quegli anni. Quindi è stata la parte più difficile, però insomma ne siamo in qualche modo usciti alla grande, direi. Grazie a Simona. E adesso abbiamo la lettura di due lettere da parte di Massimo Chiacchiararelli, due lettere che Giulio invia alla mamma e al padre e alla amata, scusate, al padre e alla amata, perché in fondo è proprio Giulio il protagonista di questo In nome del figlio, no? È lui il soggetto In nome del figlio, quello che dà una svolta a questo casato. E quindi ascoltiamo queste due lettere. Padre, vi chiesi di poter incontrare Cosimo De Medici e Andrea Doria per risolvere la questione in modo diplomatico, per concludere alla scrivania di qualche palazzo la mia angusta questione di oltraggio al diritto naturale, ma per come si è messa la situazione e per la reazione folle della Marchesa mia madre seguirò il vostro consiglio. Agirò con le armi affiancato dal capitano Venturini Servo vostro Giulio Mio angelo Sono costretto a sposare Peretta Doria Gli interessi sono troppo alti Il supporto di Doria mi è indispensabile e con il principe di Genova e il duca di Firenze potrò aspirare a ottenere il diritto di mio Stato Governerò per il mio popolo Porterò alla gloria massa e carara Inviterò artisti, poeti, musici Mi alleherò con i lussi politici signori e condottieri Oh, vedrai mio angelo Tornerà giustizia e dignità nel Marchesato dopo il fango che mia madre vi ha gettato Allora sarai libera Libera di recarti in qualsiasi corte e io ti proteggerò sempre Lo so che sorridi di tanto impeto Ti piace canzonarmi, eh? Mio angelo Mi hai lasciato da solo ad affrontare questo periodo assurdo a prendere decisioni improvvise a trovare il bivio che non porta al precipizio Tutto Ho vissuto tutto L'odio, la guerra l'amore con un'intensità che stordisce Hai ragione Non potrò mai avere Camilla Comprometterebbe il mio rapporto con Idoria anche se è con lei che ho conosciuto la passione quella che brucia la carne e fa impazzire i sensi Pazzo! Ecco come mi ha ridotto quella diabolica creatura Sono un pazzo ossessionato da lei dal suo corpo Sono incapace di resisterle Devo Devo berla e mangiarla per non morire Eppure sempre più spesso mi mancano i nostri silenzi per parlarci con gli occhi e le risate Sì Angelica quanto mi manca il suono della tua risata e quanto vorrei tornare alle nostre fughe a cavallo quando vorrei parlare ancora con te e stringerti ascoltando la tua voce non chiedermi che amore è il nostro perché non saprei risponderti So che non sei felice con il procuratore Serperi So che piangi spesso e che anche i tuoi cimenti blasonati non riescono a portarti gioia lo so ho le mie fonti Prima che avvengano le mie nozze troverò una scusa per passare da Parma e potrò finalmente rivederti a un disperato ha bisogno di te mio angelo tuo Giulio tuo Giulio mio Giulio sei più cardinale però bene vogliamoci bene cardinale adesso vedi con l'anello al dito cardinale allora io volevo sapere se quale delle due preferiresti essere Ricciarda o Beatrice oddio Ricciarda come vi ho spiegato prima è stata rivoluzionaria siamo nel 1500 e di conseguenza ha fatto cose che probabilmente adesso alcune donne potrebbero fare quindi è riuscita comunque a prendere a prendere accordi con uomini potenti a metterli da parte è stata molto spregiudicata io di mio non credo di essere spregiudicata più di tanto per cui anche volendo non riuscirei a essere Ricciarda per cui la scelta va proprio su Beatrice Beatrice è la sua dama di compagnia scrive questa sorta di diario durante tutti gli anni del servigio che ha portato avanti nel casato dei Malaspina ed è comunque una guerriera tanto quanto Ricciarda sono due personaggi completamente diversi ma molto molto uguali perché hanno una determinazione e una forza un modo di essere donna che in quegli anni era insomma non così ovvio sì vero bellissimo grazie prego e proprio in tema con questa risposta abbiamo la lettura che è l'anima del libro perché in questa lettura troviamo di fronte Ricciarda e Beatrice e infatti che ha fatto la nostra Simona ha fatto incarnare Ricciarda da Loredana e lei fedele alla risposta io volevo solo dire una cosa su questa lettura io tutte le altre letture le ho fatte fare no ma io sono no qui c'è anche lei perché è un dialogo perché è il dialogo nel senso che io questo questo brano quando lo scrissi l'ho scritto direttamente al castello Malaspina con una certa emozione perché sapevo che era il dialogo conclusivo il diavolo vedi la Ricciarda conclusivo del libro e che era il dialogo che doveva comunque in qualche modo svelare l'essenza del libro quindi ci tengo a leggerlo io proprio per il momento che ho vissuto io scrivendolo ma poi è anche perché è un dialogo cioè sono loro due vecchissime che si ritrovano dopo tanti anni quindi ascoltiamole giunsi alla fine della salita che porta al castello non so neppure come fece a percorrere tutta la strada della fortezza mi sorreggevo al bastone e quel tragitto chiese tutte le mie ultime forze a testa bassa proseguì il portone era spalancato i soldati di Alberico erano schierati e impettiti tutti molto giovani e arroganti uomini a cavallo entravano e uscivano dal cortile grandame passeggiavano lungo il porticato non sapevo chi fossero il nuovo castellano Ricciardo Lombardelli urlava ordini ai serbi e si sentiva il rumore del lavoro dei fabbri dei glutì presi coraggio ed entrai due lance mi si pararono davanti per impedirmi di proseguire fu allora che la vidi lasciatela entrare era proprio diventata vecchia stava curva nel suo abito di raso ricamato che ormai indossava goffamente una parrucca sovrastava quel volto pallido e rugoso ero al cospetto di una marchesa in decadenza che non voleva arrendersi non era ancora finita rifiutava l'idea di lasciare il suo stato di non spaventare più i suoi rivali di non amministrare più il marchesato la leonessa rugiva ancora cosa vuoi? volevo uccidervi ma non ne ho più le forze come vedete sono ancora viva dovevo farlo dovevo farvi giustiziare è la legge una questione di stato chi tradisce il suo padrone paga e io non potevo mostrarmi debole davanti alle altre signorie dovevo dimostrare di essere temuta quanto un uomo al potere io non ho mai avuto padroni Ricciarda sono sempre stata libera e voi mi avete scelta per questo è vero se non sei venuta ad uccidermi cosa sei venuta a fare qui a massa ho saputo che anche Angelica è morta quel anche racchiudeva tutte le sciagure che erano successe negli ultimi anni soprattutto la morte di Giulio mi lesse nel pensiero e proseguì ho provato a salvarlo io non sono stata io a tradirlo ho sofferto credimi credimi Beatrice ho sofferto tanto me lo prova il fatto che non avete alzato un dito per salvare vostro figlio e non solo in punto di morte quando sono diventata marchesa io mi sono trovata incastrata in un intreccio di alleanze questioni di confini guerre da decidere matrimoni politici non è stato facile gestire un marchesato governato da donne e affrontare tutto questo avevate un marito e un figlio era Giulio il vostro erede è a lui che dovete rendere lo stato la vostra avidità e la sete di potere vi ha rese cieca vi ha fatto varcare ogni limite vi ha fatto perdere la coscienza basta che ne sai ero con voi marchesa ero con voi applausi 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 l'abbiamo trovata troppo serie però devo dire che sembrava veramente che l'aveste provato non so quante volte bravissime ma poi di spalle in certi momenti tutto studiato ad arte perfetto e con questa meravigliosa lettura di Beatrice e Ricciarda si chiude la presentazione ufficiale grazie e credo che a questo punto occorra solo leggere il libro perché se no raccontiamo tutto nei minimi particolari io presento di nuovo i due lettori Loredana D'Alfonso e Massimo Chiacchiararelli la brillante relatrice Emanuela Minelli e la consigliera Iplac Simona Bertocchi e così siamo in due un'altra volta eccoci qua grazie 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 a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti